oh wow avete infranto un nuovo record c'è qualcosa che non va al parco giochi è meglio andare a vedere di cosa si tratta oh ma certo è il primo giorno di rientro a scuola sta dando la caccia ai piccoli devi salvarli è tutto ok carla puoi farcela oh c'è un po' di vento oggi non dovete preoccuparvi super camion è qui ma c'è un fantasma laggiù è tutto ok super camion tu puoi riuscire a spaventarlo oh il super camion della polizia è qui vai e acchiappalo super camion ah ha preso ma aspetta piccolo oh no piccolo cerca di atterrare sul tetto non preoccuparti piccolo super camion ti tirerà giù ecco ma come faremo a tirare giù il piccolo l'ST3000 grandioso ok piccolo devi essere molto attento stai attenzione piccolo ma cosa stavi facendo eri nervoso all'idea di ritornare a scuola così tentavi di spaventare via tutti quanti ma aspetta non hai ancora conosciuto il tuo insegnante vero siete pronti piccoli sembra divertente prendete dalla leggera piccoli questo non deve essere per nulla facile ma si sa che il super camion è bravissimo a questo gioco e finalmente segnano ok super camion facciamo ritorno alla base i piccoli e ben si stavano divertendo al parco divertimenti quando ben ha accidentalmente urtato la giostra e ora tutti sono bloccati si sono d'accordo dobbiamo andare la subito ahah 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 Oh no! La situazione adesso è ancora peggio! No, non puoi guidare sul fango, altrimenti ti bloccherai! Purtroppo non sei abbastanza grande e pesante, ma penso che tu abbia un'idea! Un mega camion! Ma è una grandiosa idea! Eccoci! Continua così! Ok, Ben! Il super camion ti spingerà al di fuori di questo disastro! Sì, sta funzionando! Per fortuna sei salvo, Ben! Adesso dobbiamo salvare i piccoli! Questo fango è simile alle sabbie mobili! Coraggio, super camion! A tutta forza! Fermati, super camion! Ti bloccherai se continui a muoverti! Billy, sei venuto per aiutarci! Ma è fantastico! Grazie per aver aiutato il super camion, Billy! Hai perfettamente ragione! Usiamo l'ST3000! Billy, tu fai strada e cerca di andare più vicino possibile alla giostra, ok? Forza ragazzi! Non è il momento di giocare! Non vi muovete! Ah, meno male! Siete tutti quanti salvi ora piccoli! Grazie mille per il tuo aiuto, Billy! Bene, sembra che la giostra sia stata aggiustata! Chi vuol fare un giro? Ok, e allora andiamo! Divertitevi tutti quanti! Ci vediamo la prossima volta! Ciao ragazzi, va tutto bene? Che vuoi volare? Ah, ho capito! Questo piccolo trampolino è per i piccoli! Ma non sai dove sono, vero? Mi sembra che a te, Carl, piaccia parecchio! Oh oh, Carl, sembra che tu sia desiderato di nuovo alla base! Ciao, Amber! Buona fortuna alla gara Holy! Questa è la gara Holy! Oh oh! Oh oh, Carl, i partecipanti alla gara Holy sono diretti proprio verso quelle pile di fieno che intasano la strada! Bisogna pensare a un modo per rimuoverle! Veloce! Uh oh! No, no, no! No, no! Grazie a tutti. Walter, non ce la farai mai a rimuoverli in tempo. Ma non preoccuparti comunque, perché sta arrivando Super Camion per aiutare. Super Camion, quale tipo di veicolo può rimuovere tutta questa paglia? Oh, è un'ottima idea! Oh, è un'ottima idea! E adesso puoi rimuovere gli ostacoli molto facilmente, Super Camion! Coraggio, ci sei! Oh, cielo! Piccoli, ma che cosa state facendo là dietro? Con il vostro giocare avete portato tutta la paglia sul percorso di gara! Il Super Camion ha ragione, sarà molto più sicuro per tutti se voi fate la vostra piccola gara Oli al parco giochi! I gareggianti sono quasi qui! Hai proprio ragione, pare abbiamo solo una manciata di minuti a nostra disposizione! Ma che cosa farai, Super Camion? Oh, wow! Super Reattori! E ora puoi muoverti super velocemente! Guarda, Walter! Guarda, guarda come va! Ehi, ma stanno arrivando! Coraggio, veloce! Ah, per fortuna tutte le pile sono rimosse! Wow, sono così veloci! Congratulazioni, piloti! Siete stati grandissimi! E anche tu lo sei stato, Super Camion! Ancora una volta, missione compiuta! Godetevi la vostra festa, Oli! Tutti quanti! Ci vediamo la prossima volta! Ah, un po' di pallavolo! Sono abbastanza sorpreso, non stiate facendo niente per il giorno dei pirati! Ma, aspetta, vi siete dimenticati? Sembra stia succedendo qualcosa! È meglio andare a dare un'occhiata! È il giorno dei pirati! Penso proprio che Amber abbia preparato una caccia al tesoro per i piccoli! Oh, sembra proprio che non riescano a trovare il tesoro! È meglio che tu li aiuti! Dopotutto festeggerai anche tu il giorno dei pirati! Ehi, piccoli! Il Super Camion è qui per aiutarvi a trovare il tesoro! Ma che cosa intendi? Vuoi dire che non è pronto? È per te, Super Camion! Grandioso! Ma penso proprio ti serva un'altra cosa per essere un vero pirata! E ora, coraggio, tira fuori il tuo migliore! Wow, proprio come un vero pirata! E ora troviamo il tesoro! Esatto! Una trasformazione ci aiuterà! Cosero o. Sì, sono pensarci anche se né della florezza! se fai un bel salto puoi vedere tutto quanto dall'alto dai coraggio sì esatto non c'è nessun tesoro piccoli avete guardato dentro il tunnel ma cosa state facendo dovreste cercare un tesoro capisco volevate avere un'ottima vista piccoli ma avete guardato dentro scuola puoi stare in disparte per un attimo oh no ci serve qualcosa per raccoglierli sei arrivato al momento giusto water puoi aiutarci con questi ma che cosa ci farai esattamente sono monete di cioccolata e adesso che cosa farete con questo tesoro volete fare un'altra caccia al tesoro ma dove avete intenzione di nasconderlo ok lo troveremo la prossima volta ciao piccoli cosa state guardando oh wow che bellissimo albero di natale ben fatto carrie il tuo albero di natale è magnifico ai tuoi ospiti piacerà un sacco esatto ci saranno anche i regali babbo natale li ha dati a penny che li sta portando proprio ora siete eccitati piccoli oh ciao penny stai portando i regali di natale nel negozio di carrie per il party oh no che cos'è questo suono c'è qualche problema fai attenzione penny la tua botola si sta aprendo oh no i regali e ora che cosa faremo carl veloce penny è nei guai le serve aiuto dal super camion uh 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 c'è chi del fumo bravo ma Guarda Super Camion, Penny è laggiù Non preoccuparti Penny, Super Camion è qui per aiutarci Super Camion, Penny stava portando i regali da Babbo Natale fino al negozio di Carrie Ma ne sono caduti giù dalla botola Sì, è terribile, tutti gli ospiti si aspettano i propri regali Devi trovarli e riportarli indietro in tempo per il party Vai Super Camion, trasformati Hehehe Fai veloce Super Camion, il party inizierà presto Sei sicuro sia stata una buona idea trasformarsi in un'auto ribaltabile? Hehehe, se lo dici tu Penso che una macchina da corsa sarebbe stata la cosa migliore C'è qualche regalo qui? Hehehe Oh sì, dietro di te Hehehe Veloce Super Camion, carica il regalo e poi proseguiamo, dobbiamo trovare tutti gli altri E' rimasto uno solo da trovare Super Camion Proviamo ad dare un'occhiata nel parco Super Camion riesci a vedere l'ultimo regalo? Sei sicuro di non vederlo? Prova a guardare dietro di te Eccolo lì, sul ramo! Ma come farai a raggiungerlo? Oh, super camion, non sembra funzionare Eh no, non funziona proprio, devi usare il tuo ST3000 È un'ottima idea, super camion Ok super camion, ora smetti di girare intorno Il party sta per iniziare, prendi il regalo e andiamo Ottimo lavoro No, andiamo al party di Kerry Non preoccuparti Kerry, il super camion sarà qui prestissimo Oh, 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 sta arrivando super camion con i regali Tutti quest'anno sono stati buoni e quindi tutti hanno diritto ad un regalo Buon Natale a tutti quanti Ciao Carla, ciao Kerry, stai testando il tuo nuovo cocktail alla frutta su Carla, Kerry? Wow, ti deve piacere sul serio Carl, a qualcuno serve il tuo aiuto, devi venire a casa subito C'è Janice, è spaventatissima, che cosa sta guardando? C'è qualcosa che non va con la grande ruota, si sta muovendo e Janice è proprio di sotto E ci sono anche delle auto su quel percorso Se cade Janice può farsi molto male Serve il tuo aiuto subitissimo, Carla, veloce! Ci sono così tante auto qui È molto difficile vedere oltre la folla Ecco Janice! Devi riuscire a raggiungerla, super camion! Usa il tuo claxon! Liberate la strada! Questa è un'emergenza! È completamente terrorizzata! Janice, riesci a sentirci? Super camion è qui per darci una mano Oh no, la base si sta muovendo Fai qualcosa, super camion! Ahaha! Un problema! Si, quella è un problema! C'è un problema! Il problema! Il problema! Un problema! Ora sei un super martello pneumatico È incredibile Veloce, la grande ruota si sta muovendo ancora Spinji, super martello pneumatico Coraggio, puoi farcela Meno male, ce l'hai fatta Janice, ringraziando il cielo, sei ok E ora, che c'è che non va? Super martello pneumatico Oh no, la folla è in breve al panico Devono darsi una calmata, altrimenti la grande ruota rischierà di muoversi ancora Janice, ho il super martello pneumatico Serve il tuo aiuto per calmare tutti quanti Bel lavoro, hai la loro attenzione Fermatevi tutti quanti La base deve essere fissata immediatamente Usa il tuo ST3000 Veloce, la piattaforma si sta muovendo Finalmente è fissata Super martello pneumatico Tutti quanti ti sono grati Ah, ottimo lavoro oggi Super Camion E ora puoi festeggiare degnamente con il meritato succo di frutta Ti piace proprio quel succo, non è vero? Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti